Ciao a tutti, eccoci e benvenuti. Dunque inizia la lunga attesa della gara di andata con il Manchester United a Old Trafford ed è una partita sulla quale abbiamo delle cose da dirci. Qui non si tratta di fare gli scaramantici o di mettere le mani avanti, ma volevo semplicemente ricordarvi che il Manchester United in questa stagione, in Champions League in casa, ne ha date 5 all'Ipsia, ne ha date 4 ai turchi del Basak Shehir e nell'unica gara importante che ha disputato fino a questo momento, all'andata, ne ha date 4 alla Real Sociedad sul suo campo. È vero che causa per G sono stati eliminati dalla Champions League, ma sono stati eliminati nel momento peggiore della loro stagione, ora sono nel momento migliore della loro stagione. Noi stiamo crescendo, stiamo facendo una bellissima stagione, abbiamo 20 punti in più in campionato dell'anno scorso, ma non so francamente se siamo già pronti per fare un testa a testa vero con il Manchester United. E arrivo a dirvi che se fosse come sto provando a dirvi, ripeto, non per essere scaramantici o per mettere le mani avanti, non sarebbe la fine del mondo, perché noi siamo con questo campionato all'inizio di un percorso e non abbiamo l'ansia, la fregola, l'assillo di, sapendo quanto tempo ci vuole per fare un passo in avanti nel calcio di oggi, di essere già al top domani mattina. Manchester United-Milan viene in ogni caso presentata da tutti i siti del mondo. Io vi segnalo chi sostiene l'attività di questo canale YouTube in questo momento è OneFootball. OneFootball ha grande prestigio, ha grandi notizie, grandi approfondimenti. OneFootball ha una app che vi consente non soltanto di consultare le notizie, ma anche di seguire eventi live e partite. La app di OneFootball la potete scaricare direttamente dalla descrizione di questo video. Dopo aver citato e ringraziato OneFootball proseguiamo con le nostre cose. Insomma, noi dobbiamo stare molto attenti a questo passaggio degli ottavi di finale di Europa League. Dobbiamo essere pronti a giocarci tutto fino in fondo, ma dobbiamo essere pronti a non fare drammi, a non avere contraccolpi poi sulla stagione di campionato, che è il nostro patrimonio, che è il nostro tesoro stagionale, dopo il doppio confronto con questi che sono veramente Giants, sono veramente un club inglese al top in questo momento. Il Liverpool fa fatica, l'Arsenal e il Tottenham non stanno vivendo la miglior stagione della loro vita, il Manchester United ha appena vinto il Manchester Derby con il City, che aveva vinto le ultime 21 partite consecutive. Io capisco che tutte le parite partono da 0 a 0 e che il tifoso del Milan per natura, per DNA, vuole giocarsela, vuole essere competitivo, vuole essere al top. È lì che in questi anni torneremo ad essere, ma oggi non so se siamo pronti e sapete che la stessa voglia di competizione che avete voi è la stessa voglia di competizione che ho io, però bisogna tener conto di alcune categorie, di alcune situazioni che in questo momento ci sono. Il calcio poi della Premier League è un calcio molto all'avanguardia, è un calcio molto lontano da quello che mediamente si fa in Serie A. Noi arriviamo a questa partita con il Manchester United oltretutto decimati, oltretutto, perché non si può pensare che hai una gravissima emergenza infortuni la domenica e il giovedì è tutto risolto. Qualcuno dei nostri sta recuperando le condizioni di Teo Hernandez, di Rebic, di Mandzukic, potrebbero essere tali nel corso di questa settimana, non so se a oltre effort o col Napoli, ma potrebbero essere tali da rivederli convocati. Però noi arriviamo comunque in emergenza infortuni oltre effort. È vero che lo United non dovrebbe schierare Rashford né con noi né nella loro successiva gara con il West Ham, è vero che Shaw e Walker sono malconci e che Pogba non c'è, ma insomma c'è qualche assenza nello United dell'emergenza infortuni nel Milan, oltre a tutto il contesto, a tutto il quadro che ho appena cercato di descrivere, di delineare. Quindi dobbiamo essere bravi, adulti e maturi a capire che insomma non riusciamo a giocarci contro una squadra top del calcio europeo tutte le nostre chance anche per questo. Per carità abbiamo fatto una bellissima partita di gruppo e di collettivo a Verona. Non so se la partita di Verona replicata all'Oltrefford possa produrre gli stessi risultati. Questo è giusto che ce lo diciamo. Io cerco di fare il cronista e voi che siete tifosi cercate di prendere atto della sostanza di quello che sto dicendo, che non è mettere le mani avanti ma prendere atto di una situazione, di una situazione che è quella che obiettivamente ci accompagna alla nostra prossima partita di Europa League. Poi noi avremo il Napoli, il ciclo è molto duro, Manchester Napoli, Manchester Fiorentina in emergenza infortuni è il ciclo più duro della stagione e quindi dobbiamo capire che lo affrontiamo con un certo tipo di forza e noi con la formazione titolare quest'anno abbiamo vinto il derby all'andata, abbiamo vinto a Napoli, abbiamo vinto a Roma. Quindi siamo assolutamente competitivi in Italia però vi ricordo che di recente ad esempio il Bayern Monaco che è una squadra che se la vede con squadre tipo lo United è andato a Roma dopo aver avuto qualche difficoltà in campionato con la Lazio e ha vinto tranquilla. Quindi bisogna stare molto attenti, bisogna stare molto accorti, bisogna stare molto attenti e soprattutto gestire ogni tipo di contraccolpo. E poi ci sarà il Napoli che prendiamo nel suo momento migliore esattamente come accade all'andata, solo che all'andata abbiamo una formazione titolare mentre domenica sera ne avremo una diversa. È una stagione un po' di alti e bassi, di tanti umori, piuttosto disordinata quella del Napoli, quindi vediamo. Però è chiaro che adesso sono il loro momento migliore quindi noi dobbiamo gestirci sull'onda delle due partite. Non sto dicendo che molliamo Manchester, non sto dicendo questo. Sto dicendo che qualsiasi cosa succederà a Manchester dobbiamo essere bravi a gestirla perché poi il nostro focus resta al Napoli, resta al campionato. Campionato nel quale l'Inter ieri sera ha battuto l'Atalanta e oggi è stato un po' di vertisman sui social, è stato un po' di casino sui social, mi riferivo al coro Chi non salta rosso nero è che hanno fatto negli spogliatoi dell'Inter dopo la partita. Dovete sapere che all'andata si erano arrabbiati per il fatto che l'avevamo fatto noi, che non bisogna permettersi. E invece vedo che insomma loro l'hanno fatto al derby di ritorno, giustamente ha meritato di vincere, non solo, anche quando giocano contro i nerazzurri e mentre sono in lotta con i bianconeri parlano dei rossoneri. Che è bizzarro ma non tanto perché i giocatori dell'Inter fanno un coro, ci sta, figuratevi, se qualcuno si impermalosisce, stiamo semplicemente parlando, perché poi i veri permalosi sono quelli che non accettano che se ne parli, non noi che ne parliamo. Il tema è che io avevo capito, avevo capito guardando le grafiche delle grandi tv, qualche tempo fa il Milan era in testa, c'era una grafica, chi sono i favoriti per lo scudetto? Inter, Juve e altri. Quindi io avevo capito che noi non c'entravamo nulla, che noi è tutto il campionato che siamo lì per caso. Quindi per carità, anzi è un bene che la squadra prima in classifica in questo momento si ricorda di noi dopo una grande vittoria. Vuoi vedere che anche se ci facevano le grafiche Inter, Juve e altri, il vero avversario secondo i primi classifi che in questo momento siamo noi, qualche tifoso milanista, malpensante, anima nera, non si fa, ha detto beh ha cantato chi non salta rossonero è, e come fai a cantare chi non salta bianconero è con Conte Vidal? Ma questo è un commento acido, è un commento livoroso che non bisogna fare nel mondo politicamente corretto dei social e di alcune tifoserie che sui social vanno per la maggiore. Quindi non sarà così, sarà probabilmente perché in questo momento il Milan è secondo in classifica e quindi il rossonero improvvisamente almeno nei cori dei giocatori dell'Inter esce dalla casella altri, altro che impermanosirsi, c'è da ringraziarli. Ciao a tutti, ci rivediamo domani.